E per domenica 1 ottobre alle 20.30 presso la chiesa di San Domenico di Lucera l'appuntamento con la musica antica, fatta rivivere grazie alla Camerata Musica Antiqua, ideazione del professor Pasquale Antonio Rinaldi, attraverso sonorità dal fascino senza tempo, eseguite rispettando criteri e canoni interpretativi filologici, utilizzando strumenti musicali rigorosamente costruiti sulla base di antichi modelli. A rendere possibile tutto ciò, a catapultarci nel passato il talento di Rinaldi, al flauto dolce, fine musicista dal curriculum ricco e variegato, che vanta collaborazioni con l'orchestra sinfonica Umberto Giordano, il RAI e Mediaset, vincitore di concorsi nazionali ed internazionali. Ad accompagnarlo all'organo storico della chiesa di San Domenico di Lucera, la giovanissima Marienza Cristiana Stampone, classe 1998, attualmente iscritta al secondo anno del triennio accademico di pianoforte presso il Conservatorio Umberto Giordano di Foggia. Sinfoni antiche e talenti moderni uniti per una serata all'insegna dell'arte, della musica e della cultura.